ciao ragazzi bentornati nel mio canale allora in questo video vi mostro qualche piccolo acquisto di abbigliamento che ho fatto di cui indosso già una cosa io col collo corto mi si risvoltano sempre i lupetti dovrebbe stare così l'unica che lo ripiego col collo corto i lupetti sono un po un problema ed è questo non vi faccio vedere tanto perché sono abbastanza in carne mi vergogno e infatti voglio fare quasi l'outfit ma non ho mai il coraggio comunque poi vabbè vi faccio vedere che ho preso anche questo maglione cerchiamo un maglione rosso e natalizio l'ho trovato dopo natale alla fine e in questo negozietto che tanto non conoscerà nessuno che è cz comunque allora vediamo che questo dovrebbe essere il davanti voi lo vedete un po più acceso però un pochino più spento con la renna questo maglione con le maniche fatte lavorate in questo modo non chiedetemi punti perché non li conosco e questo qui appunto è il maglioncino con la renna rosso questo qua l'ho pagato 11 16 questo qua addosso mi sembra 11 99 e poi ce n'è un altro che mi sono dimenticata perché volevo fare il video outfit poi ci ripenso sempre come va beh infatti vi mostro un paio di pantaloni neri quando non si capirà un tubo che sono pantaloni semplicemente neri dritti fate sigaretta a me piacciono questi modelli qua e adesso niente devo prendere l'altro maglioncino e ve lo faccio vedere subito me lo faccio vedere carino anche quello forse anche di più a questo al 50 per cento di viscosa io siccome sono allergica alla lana preferisco alla fine che ci sia del sintetico anche se è un po bruttino però è comunque 50 per cento viscosa e poi poliamide c'è chi dice che la viscosa è naturale c'è chi dice che no non è naturale sinceramente non ho capito se è naturale o non la è e non mi ero messa rossetto proprio perché volevo farvi vedere il maglioncino indossato a togliametti ma il problema è che mi spettino anche i capelli vabbè ve lo faccio vedere semplicemente così tanto comunque è semplice anche se carino è semplice ora ve lo mostro a me viene in mente che mi sono dimenticata di farvi vedere come è caduto intera ma avete intravisto qualcosa vi faccio vedere arrivo subito le pantofole nuove queste sono una cosa che mi serviva tanto che mi si sono rotte e allora ve le faccio vedere per così perché c'è una donnina vedete e a me servivano con un po di tacco perché ne ho un paio che mi fanno male i piedi e le gambe a portarle e queste qua invece le sto portando benissimo un bel caldo belle morbide e allora veniamo al maglioncino il maglioncino vediamo di metterlo bene non capisco perché nei pantaloni mi c'è tolto l'etichetta e nei maglioncini no cioè questo qua ce l'ho tolta io vabbè e allora il maglioncino questone è questo ve l'ho detto è semplice però sempre lupetto è che il lupetto va giù il collo insomma va giù vedete è elastico ho preso una L perché ero un po incerta però mi è bello comodo questo ad esempio è una taglia unica allora questo qui si chiama dolce vita vedete com'è la trama intrecciata così è morbidissimo e questo è ve lo dico subito allora 52 per cento di viscosa poi si poliester poliamide stavo guardando cos'è evitato la vera mano non lo so questo qui veniva 25 99 c'è lo sconto del 20 per cento 20 e 79 la marca è questa se vi interessa e niente spero che vi piacciono avevo bisogno di qualcosina ho avuto un pochino di tempo e insomma allora ho trovato delle cosine che mi piacevano e soprattutto si vabbè mi servirebbero dei pantaloni qua mi sono accorta mannaggia che c'è un filo tirato e cercherò di rimetterlo dentro questo è una speranza che ci riesco si questa è la cosa che costava di più perché i pantaloni se non ricordo male 14 99 ok vi sono piaciuti i miei acquisti fatemi sapere nei commenti vi saluto vi mando un bacione e a presto oggi ve lo posso dare perché non sono un glossolo il si vabbè specie di come si chiama balsamo labbra ciao a presto